Benissimo, ok. Allora, la prima cosa che voglio fare è farvi una breve introduzione all'ultima parte del Tania che andremo a leggere oggi e poi finalmente lo leggeremo insieme. Allora, abbiamo parlato del fatto che il benoni vuol dire l'uomo a cui ognuno di noi, l'uomo vuol dire persona a cui ognuno di noi vorrebbe aspirare, dovrebbe aspirare, deve, ha l'obbligo di aspirare, è colui che riesce a non eliminare completamente la sua inclinazione negativa, perché è una cosa, abbiamo detto tante volte, impossibile, ce l'ha data Hashem, ce la può togliere solo lui. L'unica cosa che Hashem vuole da noi è darcela e vedere come noi la gestiamo, vedere come noi riusciamo a essere più bravi del nostro Ezra Ra per poterlo contenere, come abbiamo letto nel Tania settimana scorsa tradotto in italiano, imbrigliare, le briglie che si mettono al cavallo. Quindi riuscire a governare, a comandare, a sottomettere, a soggiogare alla nostra volontà che è quella di voler fare nient'altro che la volontà di Hashem. Come dice il Baal Shem Tov, colui che ha iniziato tutto il movimento della Hasidut, ha detto che una persona non vuole e non può, anche se vorrebbe, però non può staccarsi da Hashem, però non vorrebbe perché non vuole, quindi ne vuole, ne può staccarsi da Hashem. Ora, se io non voglio e non posso staccarmi da Hashem, ma mi insegnano che commettendo un peccato, una trasgressione, mi stacco si da Hashem, che cosa succede? Succede che non sono io, succede che è colpa di, non posso dare colpa agli altri, ma chi è stato quello che mi ha fatto cadere nella trasgressione, il mio Ezra Ra. Nel senso che io di mia profonda e intensa volontà non avrei mai voluto trovarmi in quella situazione lì. E allora perché mi trovo in quella situazione lì? Perché non sono il vero io che ha voluto trasgredire Hashem, perché il vero io ne vuole, ne può staccarsi da Hashem. Ora, detto questo, abbiamo questa come indicazione, come scopo, come, chiamiamola così, indirizzo finale. Voglio sapere come ci arrivo. Ci arrivo con tanta, tanta fatica, con tanto, tanto impegno e continuo combattimento giorno per giorno. Il capitolo 27 ha detto che una persona non deve disperarsi del fatto che non si riesce a vincerlo e ad eliminarlo, perché non fa parte del gioco vincere, fa parte del gioco giocare. Quindi non c'è un traguardo da raggiungere, se non quello di combattere continuamente. Il traguardo è combattere lo di combattere. Quindi una persona non deve disperarsi perché non ha vinto. Non c'è la finale della coppa. Non c'è. E tutta la vita è un continuo combattimento, un continuo guerra di possesso di proprietà del corpo e della mente e del cuore e di tutte le nostre azioni. Ora, arriviamo alla fine del Tanya che ci dice, alla fine di questo capitolo, che ci dice che c'è un modo molto semplice per poter raggiungere questo scopo. Una mitzvah della Torah. La Torah ci dà come mitzvah una, diciamo, un'idea molto molto astratta che però se adesso iniziamo ad approfondirla vediamo quanto è concreta. La Torah ci dice che ognuno di noi deve essere santo. C'è una parasha intera che si chiama parashat kedoshim. Perché si chiama così la parasha kedoshim? Perché la parasha di kedoshim inizia con kedoshim tiyu, siate santi. È una parola che non ha un senso concreto. Cosa vuol dire siate santi. Allora, leggeremo insieme le righe del Tanya e poi spieghiamo tutto quanto. Vi faccio la condivisione dello schermo. Ok, spero che lo vediate. Benissimo. Andiamo alla riga che dobbiamo arrivare. Bene. All'ultima parte. Leggiamo insieme, lasciamo che parli l'autore del Tanya e poi cercheremo di decifrare queste parole. Abbiamo spiegato nella lezione precedente che quando una persona controlla e riesce a sottomettere le sue inclinazioni negative alla sua propria volontà, quello che succede è come conseguenza è che Hashem è molto più re di quello che era prima. Non solo nei mondi superiori, ma anche in questo mondo fisico, la gloria di Hashem, la presenza di Hashem, la regalità, la sovranità di Hashem è molto più sentita di quanto lo era prima che io avessi detto no al mio Yetzirara. Questo è, come dicevo prima, il significato per il quale non c'è la fine della partita. La fine della partita è l'ultimo giorno di vita. Ogni giorno noi dicendo sì allo Yetzir Tov, dicendo no allo Yetzirara, stiamo vincendo. Leggiamo insieme le parole del Tanya. Quindi dice così. Questo è ciò che intendono i rabbini dicendo. Troviamo una Gemaran che dice così. Un uomo che si consacra qua giù, anche un poco, sarà santificato assai più dall'alto. Letto in ebraico è Adam mekadesha tzmo lemata, mekadeshino tohar be' mi lemala. Quindi una persona che si consacra, che cosa vuol dire si consacra? Vuol dire semplicemente, senza andare a cercare significati profondi, dice no allo Yetzirara. Non sta dicendo no allo Yetzirara di ciò che è vietato, perché se una persona cade nel peccato, chiaramente è una persona che si impurifica. Qui stiamo parlando, ciò che abbiamo trattato molto, e ci siamo dilungati molto settimana scorsa, il concetto del astenersi da ciò che è permesso. Quando ciò che è permesso non è utile al mio servizio di Hashem, mi faccio due domande. Devo dare al mio corpo tutto ciò che è permesso? Se io do al mio corpo tutto ciò che è permesso, il corpo, quindi l'inclinazione, non il corpo, l'inclinazione negativa al mio Yetzirara, inizierà ad abituarsi, ad essere accontentato continuamente, e inizierà a chiedermi anche cose vietate. Quindi io per potermi tenere lontano da questo limite tra il permesso e il vietato, mi tengo due, tre passi indietro. Anche ciò che è permesso, se non mi serve per servire Hashem, evito. E questo significa consacrarsi. Mi consacro da ciò che è permesso. Ci sono persone che sono dedicate a qualcosa tutta la loro vita, benché nella vita ci sono mille opportunità, ma loro sono consacrate a una certa cosa. Non prendono in considerazione tutte le altre cose che potrebbero fare nella loro vita. Questo è un po' anche il significato di consacrarsi. Quindi io mi consacro in ciò che è permesso, non considero tutto ciò che è permesso una cosa utile a me, e così mi tengo a debita, a distanza, a distanza di sicurezza, come una cintura di sicurezza tra ciò che è permesso e ciò che è vietato, e non cadrò nel divieto. Ora, cosa ci dicono i nostri saggi? Che se io mi consacro qua giù, anche un poco, come dicevamo la settimana scorsa, devo mangiare? Aspetto cinque minuti. Perché? Perché mangiare è un piacere. E siccome mangiare è un piacere, allora io combatto lo viazzerarà. Mangio fra cinque minuti. Ci sono persone che se rimetti il cibo sul tavolo perdono il libero arbitrio. È una cosa comica, ma purtroppo non lo è. Vedi delle persone che quando metti il cibo sul tavolo, gli escono gli occhi, non sono più capaci né di intendere né di volere, e si buttano sul piatto come se fosse l'unica cosa che hanno nella loro vita. E queste sono persone che hanno fatto l'università. Sono persone che sono rispettate, però non hanno mai attivato dentro di loro l'autocontrollo. Ora, quando io mi trovo anche al Betakneset, che c'è il kiddush, e vedi la gente che si avvicina molto velocemente al tavolo del kiddush, e tu ti tieni qualche passo indietro e dici, ah sì sì, anch'io assaggerò qualcosa, ma fra tre minuti, non adesso. Perché? Perché è così, perché io sono uno che può controllare se stesso. E quindi è vero che faccio la mitzvah del kiddush, faccio la berachah di mezzo nozzo, una pizzetta o su qualcos'altro, è tutto giusto. Sì è vero, ma fra tre minuti, non adesso. Perché? Per il piacere di mantenere l'autocontrollo. Il cibo è qualcosa che è una necessità, non è un piacere e basta. E quindi se è una necessità, il corpo di tre minuti ce la fa. Tre minuti, cinque minuti. Ha parlato prima, nelle righe più in alto dei saggi che si trattenevano, un'ora addirittura. Perché? Perché un'ora? Così. anche se poi continuavano a studiare Torah. Ma perché il corpo sa che deve essere tenuto sotto controllo, io mi abituo, mi alleno a fare questa cosa. Questo si chiama consacrarsi. A differenza delle persone che quando hanno del cibo davanti perdono l'autocontrollo e perdono, come si dice in tribunale, la capacità di intendere e di volere. Bene. Andiamo avanti ed inoltre, con l'astinenza da cose permesse, egli avrà adempiuto al precetto positivo della Torah, santificatevi e sarete santi. È la Parashah di Kedoshim che ci indica che ognuno di noi deve essere santificato. Che cosa vuol dire santificato? Non è soltanto un esercizio mentale o un esercizio emotivo. L'admurazza Kenci dice che è proprio una mitzvah. È una mitzvah ogni volta che io posso fare qualcosa di permesso e lo faccio controllando me stesso. Quindi non mi butto in tutto ciò che è permesso. Dicevo la settimana scorsa che c'era questo detto dei chassidim che è diventata anche una una melodia, una canzone. Chi non è un chassid diceva quello che... No, non l'avevo detto la settimana scorsa. La settimana scorsa avevo detto qualcos'altro. C'è una melodia che dice così. Le persone che non studiano il chassidut dicono che ciò che è permesso è permesso finché ti esce l'anima. E ciò che è vietato non sempre è così vietato. Grave è da dire. Invece dai chassidim si dice ciò che è vietato è vietato fino che ti esce l'anima. E quello che è permesso non è sempre permesso. Ed è esattamente quello che stiamo studiando adesso. Quello che è permesso non è sempre permesso. Ma perché? La Torah mi dà il permesso assoluto di mangiarmi un panino con il formaggio, i pomodori e l'insalata. Che cosa c'è di male? Non c'è niente di male. È permesso al 100%. Però se lo fai per piacere fallo fra cinque minuti. Questo è quello che la Torah ti dice santificatevi e sarete santi. Non siate dedicati alla vita materiale più di quanto il corpo ve lo chiede. Perché il corpo non chiede tutto quello che noi siamo convinti che il corpo ci chiede. È qualcosa che lavora dentro di noi, che ci convince che ho bisogno, ho bisogno, voglio, voglio, ma non è neanche vero. Quindi la Torah ci dà una delle 613 mitzvot, questo precetto di santificatevi e sarete santi. Vado avanti. Il significato di santificatevi è voi dovete rendervi santi. Ossia, benché in verità l'uomo non sia santo e non si stacchi dalla sitra, ahra, leggo la parentesi, questa infatti conserva il suo pieno vigore, la sua potenza nella parte sinistra come al momento della nascita. Come dicevo, non c'è la fine del campionato. Un campionato dura tutta la vita. Così come Hashem mi ha messo lo Yetzirah, che viene chiamato nel linguaggio della Kabbalah sitra, ahra, l'altra parte, la parte della Kedushah è l'altra parte. Io, nonostante che mi santifico giorno per giorno, non sto assolutamente togliendo il suo vigore a lui Yetzirah, perché lui si inventerà sempre qualcos'altro. Dice, ah va bene, non ti piace il panino con il formaggio e l'insalata? Va bene. Voglio la Coca-Cola. Non ti piace la Coca-Cola? Va bene. Allora voglio uno snack. Non voglio uno snack? Va bene. Allora si inventerà ogni giorno qualcosa. Ma come? Io ho controllato me stesso. Perché continuo a chiedere? Perché questo è il gioco. E si va avanti tutta la vita. Però c'è qualcosa di interessante che abbiamo letto prima, che adesso ripropone il Tania, che i Chachamim ci dicono nel Talmud, tuttavia egli può soggiogare i propri impulsi e santificarsi, ed allora sarete santi. Perché il passuk, il versetto dice, santificatevi e sarete santi, che sembra una frase che si sdoppia. È un termine che è ripetuto due volte. Non avrebbe senso, santificatevi e sarete santi. Invece il senso che il Tania dà a questo versetto è che è una promessa che Hashem ci fa. Se voi vi santificherete, se voi attiverete nella vostra mente e cuore l'autocontrollo, io vi prometto che vi comporterete in modo come si comportano i santi. Nel senso che vi aiuterò io a indebolire la forza della Sitra Akhra, la forza dell'altra parte, dello Yetzirah, ossia alla fine l'uomo sarà veramente santo, come fosse una promessa. E si staccherà della Sitra Akhra, poiché sarà santificato in larga misura dall'alto e gli sarà data assistenza perché la espella dà dal suo cuore a poco a poco. Ora, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo ti faccio un regalo. Tu ti santifichi, io ti faccio santo. Cosa vuol dire ti faccio santo? Non nel senso che si usa oggi nel senso comune di questa frase. Ti faccio santo vuol dire ti indebolirò questa tua energia che il tuo Yetzirah ti trascina verso le cose che non sono necessarie. E tu ti chiedi a un certo punto della vita, ma perché sto facendo tutto questo? E realizzi che forse a un certo punto della tua vita hai perso il tuo controllo, hai perso addirittura il tuo libero arbitrio. Non ricordo se l'avevo accennata questa cosa un po' di mesi fa, che c'è una mitzvah nella Torah di amare Hashem. È la prima frase dello Shema. E come si ama Hashem? Con il tuo cuore, con la tua anima e con il tuo tanto. Bechol meodecha vuol dire con tutto quello che hai, ma meodecha viene dalla parola meot che significa tanto. Che cosa significa amare Hashem con il tuo tanto? Significa che tutto quello che il mondo ti propone, se hai piacere, va bene. Ma non amarlo tanto, perché la parola tanto la devi dedicare ad Hashem. Se ti piace un cibo, va bene, tranquillo. Non diventare matto per attraversare l'oceano per andare a mangiare in quel ristorante. Perché lì vuol dire che hai perso il libero arbitrio. Si racconta di gente che prende l'aereo perché dall'altra parte dell'oceano c'è un ristorante che fa un certo tipo di alimento che solo lì lo sanno fare. E tu hai fatto otto ore di aereo per mangiare qualcosa che il piacere del palato dura cinque secondi, dieci secondi. Signore, abbiamo perso il libero arbitrio. Siamo diventati delle macchine, delle macchine sottomesse al nostro Yetz Ararat. E te lo sbattono sul giornale, come se fosse una cosa normale, una cosa bellissima. E non ci rendiamo conto di quanto siamo finiti, di quanto siamo, di quanto abbiamo perso la bussola, di quanto abbiamo perso il nostro controllo di ciò che è importante e di ciò che non è importante. E c'è questa frase che diciamo tutti i giorni nello Shema, Amerai Hashem, con il tuo tanto. Vuol dire ti piace un vestito? Va bene, compralo. Shema, non c'è più la mia taglia. Va bene, aspetta, no, non lo fanno più. E quindi cosa si fa? Si va dal sarto a farlo. Ma il sarto per farlo vuole dieci volte tanto il prezzo. Lo compri da un negozio, ha 100 euro questo vestito, dal sarto te lo fa 1000 euro. Perché è un vestito che lui non fa. Quindi gli devi portare il modello, gli devi portare la fotografia, lo deve fare su misura. E uno è disposto a pagare 1000 euro per un vestito che normalmente costa 100 euro perché ama tanto questo vestito. Ecco, la parola tanto lasciala per Hashem. Questo è quello che dice la Torah, questo è quello che ti sta dicendo adesso il passuto. C'era una persona che aveva odiato tanto un'altra persona. È un Hasid, si chiamava Rabbi Mendel Futterfas, che è venuto a mancare il 4 di Tammuz, che è domani. Aveva detto non puoi odiare tanto qualcuno, perché la parola tanto la devi lasciare per Hashem. Quindi vuoi odiare qualcuno? Cerca di controllarti, ma non tanto, tanto mai. La parola tanto lasciala per Hashem. Devi amare tanto Hashem. Tutto il resto, non usare la parola tanto e non approfittare del concetto del tanto per qualcosa che non è Hashem. È un lavoro, è una vita di autocontrollo, ma questo è il motivo per il quale Hashem ci ha creato giorno per giorno, per il quale Hashem anche oggi ci ha dato la vita e anche domani vedrà Hashem ancora per tanti anni perché noi si controlli la parola tanto, perché noi si controlli la nostra inclinazione e quindi riusciamo piano piano a esperlerla dal nostro cuore. Ora abbiamo finito leggendo le ultime righe. Gli sarà data assistenza poiché la espella dal suo cuore poco a poco. Ora se io voglio fare un regalo a qualcuno, questo regalo non lo faccio a poco a poco. È vero che a volte è meglio così. Ci sono persone che vincono alla lotteria delle cifre astronomiche e si racconta di queste persone che nel giro di pochi anni sono caduti in povertà dopo aver sciallacquato tutte le loro ricchezze. Non è una cosa successa una volta o due. Perché? Perché la persona non è in grado psicologicamente di gestire delle somme così importanti. E quindi che cosa fa? Prende tutti gli amici, 15 amici, quelli del club, del bar e li porta su un aero privato a Parigi e passa con loro una settimana in un hotel 5 stelle, i ristoranti più lussuosi e poi da lì non basta. Poi da lì bisogna andare a Miami, poi da lì si va in California e poi in poco tempo la persona rimane con niente. Perché? Perché non era in grado di gestire questa ricchezza. Oggi quando una persona vince la lotteria c'è l'opzione, adesso non lo so perché non l'ho vinta, ma si dice così, c'è l'opzione che ti diano ogni mese 20.000 euro o ogni settimana 10.000 euro in base a ciò che uno ha vinto. Perché questo? Per non dare alla persona ciò che non è in grado di ricevere. Ecco perché noi tutto il giorno ci lamentiamo che Hashem non ci dà, vogliamo di più, vogliamo di più. Dobbiamo stare tranquilli e fiduciosi che Hashem ci dà esattamente quello che ognuno di noi può ricevere. Non ci dà un centesimo in meno e non ci dà un centesimo in più di ciò che noi oggi abbiamo bisogno, anche se noi siamo convinti del contrario, anche se noi siamo convinti che meritiamo molto di più, abbiamo bisogno di molto di più, avremmo fatto molto di più se Hashem ci avesse dato di più, ma dobbiamo avere fiducia in Lui che ci dà esattamente quello che abbiamo bisogno. Oggi fanno così anche con le lotterie. Cosa è successo? La Torah ci racconta che quando il popolo ebraico doveva entrare in Eretz Israel, il popolo ebraico era numeroso, ma non così tanto da poter vivere in tutta la superficie della terra promessa. Quindi che cosa ha detto Hashem? Ha detto la terra la conquisterete piano piano. In ebraico mehat mehat agareshenu mipaneha. I popoli che io allontanerò, questi famosi sette popoli Akhenani, Akhitia, Emoria, Perisia, Girgashiva e Wusi, questi popoli saranno allontanati piano piano. Perché piano piano? Ci dai un regalo alla terra promessa? Dacela tutta. Perché non ce la dai tutta? E la risposta è molto semplice, perché non siete sufficientemente numerosi da poter abitarla tutta. E quindi se io ve la do tutta quanta in regalo, pronta all'uso e voi non siete sufficientemente numerosi, la terra si riempirà di animali feroci oppure di altre nazioni, di altri popoli che torneranno perché vi vedranno non sufficientemente pronti, forti militarmente da poterla proteggere tutta. Quindi Hashem ti dice te la do, la terra promessa piano piano. Mehat mehat agareshenu mipaneha. Il versetto finisce ad asher tifre finché ti moltiplicherai venachaltaita aretz e potrai ereditare tutta la terra. Ora, dato che la Torah quando la studiamo, la studiamo sì nella suo significato pratico, ma la Torah è infinita e ha un'infinità di significati profondi e qui la Torah ci vuole insegnare che quando io devo conquistare la mia terra promessa, che è il mio corpo, da chi lo devo conquistare? Dal mio stesso nemico che è il mio Yetzirah. Hashem ti dice io non te lo tolgo lo Yetzirah perché te l'ho messo io, tu devi combattere. Se vedo che tu lo combatti come ti ho insegnato io, con la parola Kedoshim, nel senso che la parola Kedoshim significa con ciò che è permesso tu ti astieni perché non è necessario, allora io ti illuminerò la mente e il cuore da poter allontanare e indebolire lo Yetzirah, ma non tutto di un colpo. Me'at, me'at. Così termina il capitolo 27 del Tania con le parole in ebraico me'at, me'at, poco a poco. Perché? Perché non sei abbastanza maturo, non hai sviluppato abbastanza capacità mentali e emotive da poter gestire tutto il tuo corpo. Quindi lasciamo Yetzirah fare il suo lavoro e piano piano quando lui ti metti, si mette d'intralcio, tu lo combatti, diventi più forte e di nuovo il giorno dopo e di nuovo il giorno dopo e piano piano tu ti rinforzi, ti rendi più maturo e più solido e più forte, più determinato finché riuscirai completamente a conquistare questa terra promessa che è il tuo corpo. Come dice il il Tania, perché facendo così riuscirete soltanto a combattere in parte. Se invece voi vi santificherete piano piano delle cose permesse, io vi regalerò il completo controllo, la completa autorità sul vostro corpo, sulla vostra mente, sui vostri sentimenti, sui vostri emozioni e su tutte le vostre azioni, il pensiero, la parola e l'azione. Prendo un respiro un attimino, se avete qualcosa da aggiungere mi farà tanto. Quindi Rav, seguendo questo ragionamento logico, la santità è la separazione, Kadosh è separato, è la separazione sempre più completa, per lo meno nell'intenzione del Benoni, da quello che è lo Yeserara. Quindi Kadosh è colui che elimina lo Yeserara, perché tolto il Yeserara c'è soltanto la Kedusha Allora c'è una differenza. Potremmo schematizzare, schematizzando. Sì, 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 ho capito, ho capito. Però non dobbiamo correre troppo. Kadosh è già un rango, è già… È arrivato, sì. È una medaglia che si mette sul petto, che non ci siamo ancora arrivati. Quello che la Torah non ci ha detto è che dovete arrivare al livello di Kadosh. Il livello di Kadosh vi porto io lì. Voi quello che dovete fare è ve yit kadishtem. Dovrete fare… Dovete fare continuamente, sì. Dovete far finta di essere. Dovete imbrogliare lo Yeserara dicendole no, io queste cose non le faccio. Ma come? È permesso il 100%? Sì, 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 ma io non vedo la… di fare questa… Molto interessante questo aspetto. Perché poi si lega a quello che sarà il concetto di Kadosh. Esattamente. Qui abbiamo un attimino la capacità di capire, di vedere proprio con la punta dell'occhio che cos'è uno Kadosh. Uno Kadosh è una persona che è riuscito a prendere il totale controllo del corpo e a Kadosh Baruch Hu gli fa questo regalo, ti elevo dal livello di persona normale al livello di Kadosh. Quindi questo è un cartello indicatore, insomma, diciamo così. È un titolo. No, dico questo qui che stiamo parlando adesso. È la via, dice questa è la via, percorrete. È l'indicazione. Esattamente. Quanto le percorriate è un problema vostro, insomma. No, no, non è un problema. Sì, nel senso che è un regalo. È un regalo, insomma. Esatto. Grazie. Silvano, qualcosa? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Va troppo caldo. È già tanto che riesco a capire quello che dici. Eh, in effetti si fa fatica. Sì, 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 sì. Ciao a tutti. Non lo so, io ho lasciato l'Italia settimana scorsa e qui ieri ha fatto fresco, ma proprio fresco, fresco. Dove sei? Sono a New York. A New York il clima è impossibile da prevedere, perché c'è scritto nelle previsioni del tempo le facciamo per il mondo intero, ma non per New York. Il clima può cambiare da un'ora all'altra. C'è sole, piove, freddo, caldo nella stessa giornata. E qui lo chiamano il laboratorio di Hashem del clima mondiale. Qua fa le prove. Poi come vede, come funziona, va avanti. Ok, vi avevo promesso che avrei dedicato qualche minuto a parlare di questo giorno che è il 3 di Tammuz, che è il giorno in cui noi ricordiamo il legame molto forte che abbiamo con il Rebbe. Ora, una cosa che ho letto che è legata al Tania ed è legata anche a ciò che vorrei introdurre è che qui a New York, negli anni 40, il Rebbe era il genero del Rebbe. In quel periodo, dal 1940 al 1950, quando sono arrivati in America, sono riusciti miracolosamente a scappare dalle grinfie dei nazisti in Europa e sono arrivati nella terra della libertà, così si chiama, perché c'è la statua della libertà che ti accoglie negli Stati Uniti. è venuto un grande, grande rabbino a chiedere udienza alla Rebbe precedente. Ora, era seduto che aspettava il suo turno per entrare ed è passata per quella stanza il nostro Rebbe, che ancora era un perfetto sconosciuto. Era vestito molto semplice, una giacchetta normale. Questa persona però l'aveva riconosciuto e si è alzato in piedi. E Rebbe gli dice, perché ti alzi in piedi? Dice, perché sei figlio di persone sante. Banav shelkedoshim. Perché i tuoi genitori, nonni e bisnonni, arrivi da una stirpe di grandizza di Kim. Allora Rebbe l'ha guardato molto seriamente e gli ha detto, una persona non deve essere figlio di santi. Una persona deve essere santo lui stesso. Figlio di chi non ha nessuna importanza. Quindi se tu sei figlio nipoti di grandizza di Kim, ma tu non sei quello che Hashem si aspetta da te, non c'è motivo di alzarsi davanti a me. Questa è un'espressione di modestia incredibile che aveva Rebbe, ma anche un insegnamento molto forte che ci dice che è un lavoro che è dato a ognuno di noi. Se è scritto nella Torah e la Torah è infinita, quindi la Torah l'hanno ricevuta 333 anni fa sul monte Sinai, loro dovevano santificarsi, noi oggi dobbiamo santificarci. E abbiamo spiegato un attimino come si fa. Ora, i tzaddikim sono coloro che sono riusciti ad arrivare a questo livello. Oggi studiavo nel Tania che un tzaddik è davanti agli occhi di Hashem di un valore che non è paragonabile a niente di tutto ciò che ha creato. Neanche i più grandi angeli, chiama l'angelo Michael, l'angelo Gabriele, gli angeli che sostengono il trono celeste, il trono di Hashem, questi angeli davanti a un tzaddik non hanno nessun valore davanti al tzaddik. Certo che hanno il loro valore, però davanti alla presenza di un tzaddik che ha santificato se stesso e ha creato un legame tra Hashem e questo mondo, come è famosa la frase che diciamo, o se, scusate, che Talmideh HaKhamim portano pace nel mondo, che significa che fanno fare la pace tra il mondo e Hashem, tra Hashem e il mondo che ha creato, perché nel mondo la gente urla Dio non esiste, e invece il tzaddik dimostra che Dio esiste e che non c'è niente che è in contrasto con Hashem, anche se la scienza ti racconta questo e ti racconta l'altro, il Rebbe tutta la vita, a ogni domanda come fa la Torah e la scienza ad andare d'accordo, il Rebbe dimostrava come non c'era nessuna contraddizione e mai non c'è stata nessuna contraddizione tra la scienza e la Torah, perché la Torah è il progetto di come Hashem ha creato questo mondo. Quindi se c'è qualcosa in questo mondo deve esserci per forza della Torah, e non può esserci assolutamente una contraddizione tra la Torah e la scienza e questo mondo. Quindi il tzaddik è colui che porta la pace tra Hashem e questo mondo. Davanti ad Hashem, quando Hashem vede un tzaddik, è il motivo per il quale ha creato il mondo. Infatti c'è un Midrash all'inizio di Bereshit che dice che al Kadosh Baruch Hu nella sua infinita umiltà prima di creare questo mondo si è consigliato con le anime dei tzaddikim. Ma se uno fa un conto, abbiamo appena detto, prima di creare il mondo si è consigliato... Se non ha creato il mondo non c'erano i tzaddikim. E quindi come poteva consigliarsi con le anime dei tzaddikim quando ancora il mondo non l'aveva creato e non hanno abitato i tzaddikim in questo mondo. Ma ci è sfuggita un piccolo particolare che davanti ad Hashem il passato, il presente e il futuro per noi è una cosa che non possiamo capire. La nostra mente non gestisce passato, presente e futuro insieme ma ad Hashem il passato, presente e futuro è la stessa cosa perché lo spazio e il tempo li ha creati lui. Quindi se lui ha creato il tempo, lui è superiore al tempo perché l'ha creato lui e quindi lui esiste senza il tempo. E quindi prima di aver creato il mondo, lui ha già visto tutto ciò che il mondo gli avrebbe proposto e quindi ha già avuto il piacere dei tzaddikim in questo mondo prima ancora di aver creato il mondo. Quindi cosa vuol dire con chi si è consigliato con le anime dei tzaddikim? Ha sentito il piacere che i tzaddikim gli avrebbero portato e grazie a questo piacere ha creato il mondo. Quindi un tzaddik basta per dare il motivo a tutta l'umanità, a tutto il sistema solare e tutte le galassie e tutto ciò che è vivo e tutto ciò che cresce e tutto ciò che esiste e tutto ciò che vive di continuare a vivere per un solo tzaddik. Ora siccome diceva Silvano che fa caldo ed è uscito il sole e sto cocendo sotto il sole, mi fermo un attimino, prendo un po' di respiro. Vi voglio raccontare qualcosa che ho sentito ieri pomeriggio al Beta Knesset. Chi mi ha raccontato questa cosa è una persona che conosco e che lui ha partecipato a questa storia. Nel 1989 era il periodo in cui il Rebbe ogni domenica stava in piedi per ore ed ore, a volte addirittura dieci e nel 1989 il Rebbe aveva 87 anni e 87 anni stava in piedi e dava Berachot a migliaia e migliaia di persone ogni domenica rimanendo a digiuno perché a digiuno lo sapeva solo lui. Cosa succede? Succede che passa un rabbino, si chiamava Bar Khan di cognome, nato a Riga e la sua vita è stata una vita molto movimentata, come è riuscito a salvarsi dalla Shoah, come è riuscito ad arrivare in Eretz Israel ed è venuto a visitare Rebbe. La domenica era il giorno in cui lui chiedeva a Rebbe una Berachà per il viaggio di ritorno in Israele e Rebbe gli ha dato tantissime Berachot. Era una cosa molto emozionante. Ora lui si allontana e c'è questa persona che ci ha raccontato la storia, si chiama Roumani, che lui è quello che ha fatto le fotografie più famose del Rebbe, lui è un fotografo, e questo Rav Bar Khan era ospite a casa sua, quindi lui lo accompagnava. All'uscita dalla casa delle Rebbe, dal Betaknesse delle Rebbe, da 770, corre una persona e dice, Rebbe ti vuole chiedere qualcosa. Quindi questo Roumani lo aspetta fuori, torna dentro e dopo un minuto torna di nuovo fuori. e gli chiede Roumani al Rav Bar Khan, dice, cosa ti ha chiesto Rebbe? Il Rebbe mi ha chiesto se vado in Brasile. Come? Un minuto fa hai detto Rebbe che vuoi una Berachà perché vai in Erez Israele? Il Rebbe ti richiama e ti chiede se vai in Brasile? Il Rebbe mi ha chiesto se vado in Brasile. E tu cosa hai risposto? Ho detto, certo, vado in Brasile. Ma come vai in Brasile? Non stai andando in Israele. Ma cosa devo fare? Il Rebbe mi ha chiesto se vado in Brasile. Cosa dovevo rispondere? No. Vado in Brasile. E lui che è cresciuto negli anni della Shoah non è andato a scuola e pensava che il Brasile era vicino a New Jersey. Vabbè, portami in Brasile, il Rebbe vuole che vado in Brasile. Guarda che il Brasile sono 11 ore di volo. Ah, vabbè, il Rebbe vuole che vado in Brasile. Ma chi ha in Brasile che conosci? Nessuno. E cosa vai a fare in Brasile? Ma non lo so che cosa vado a fare in Brasile. Se Rebbe mi ha chiamato e mi ha chiesto se vai in Brasile. Io devo rispondere di sì. Va bene. Vanno all'agenzia di viaggi. Questo signore deve viaggiare in Israele. Non vai in Israele. Vai in Brasile. Fagli un biletto per Brasile. Quando? Adesso. Ok, c'è un volo stasera. Va bene. Intanto lui conosceva qualcuno a San Paolo. Ha detto guarda c'è questo signore qua che sta arrivando lì. Vedi se lo puoi ospitare a casa tua perché il Rebbe gli ha chiesto se vai in Brasile. Nessun problema. È arrivato a San Paolo e dopo 11 ore di volo questo signore lo viene a prendere all'aeroporto, lo porta a casa sua, lo ospita in casa sua e lui dice vabbè usciamo fuori a vedere questo Brasile. che cos'è, come esce fuori dalla porta di casa del suo ospitante, host in inglese. C'è una signora che lo guarda e gli dice Rav Barkan, Rav Barkan. Dice ma ci conosciamo. Dice ma sì non ti ricordi? Anch'io sono cresciuta a Riga. Dice ma tu chi sei? E gli dice il cognome. Dice ah sì 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 certo che mi ricordo di te. Ma cosa fai qua? Dice guarda lascia stare. Sono qui. Ma che bello che bello. Ma quanto rimani? Dice non lo so. Come non lo sai? Lascia stare. Una lunga storia. E dice guarda siccome tu hai conosciuto mio papà e ti ricordi di mio papà quanto era una persona Pia, Hasid, quanto ci teneva la Torah e ho un problema nella famiglia. Il problema è che c'è qualcuno della mia famiglia che si sta per sposare con una che non è della nostra religione, che è una delle cose più gravi nella Torah. Quindi voglio sapere se puoi fare qualcosa. Dice che cosa faccio? Dice vieni a raccontare al nipote che era suo nonno. Vieni a raccontargli qual è la catena che per 3.000 anni si è portata avanti che lui vuole interrompere. Va bene. Quando? Domani sera. Ok. Arrivato la sera dopo a casa, c'era tutta la grande famiglia, si è seduta, ha detto io sono come la mamma, sono della stessa città e siamo cresciuti insieme. Iniziato a raccontare come era la vita ebraica in questa città e tutta la storia della comunità e come il nonno e come il papà. Ha iniziato a raccontare tutto, poi a un certo punto gli ha fatto con l'occhiolino, dice quel ragazzo lì lo vedi? E quello lì è quello che devi un attimino sciogliere, cercare di entrare nel suo cuore. Allora verso la fine della cena lui si siede un pochino, vuole parlare con lui, gli parla un pochino, però lui era fermo nelle sue posizioni. Chiaramente si sono rincontrati il giorno dopo, il giorno dopo ancora, fino a giovedì sera. Giovedì sera questo ragazzo dice dai, va bene, ho sentito la storia di mio papà, la storia di mio nonno, la storia di mio bisogno. Ho capito, sono diventato un professore di storia della mia famiglia, ma non mi interessa. Io sono innamorato con questa ragazza e voglio sposare questa ragazza. Allora il rabbino gli dice, ma tu nella tua vita non hai mai incontrato una ragazza ebrea? Dice la verità, no, siamo sempre vissuti qua, lontani da tutto e da tutti, non conosco nessuno. Nella tua vita non hai mai... Dice, ah sì, avevo 14 anni, mi hanno mandato in un campeggio e c'era lì una ragazza che aveva anche lei 13, 14 anni come me. Sì, l'unica ragazza che ho conosciuto, anche lei era venuta in questo campeggio qua. Dice, ok, come si chiama questa ragazza? Si chiama così e così. Va bene, dille che le voglio parlare. Il rabbino Varcandi dice, dille che le voglio parlare, ma non so neanche dove si trova, non ho idea. Sono passati 15 anni, ho 30 anni adesso. Va bene, cerchiamola. Ha iniziato a fare mille telefonate, è riuscito ad ottenere il numero di questa ragazza che ormai è una signora. e gli dice, ok, chiama. Dice, no, che cosa chiamo? Non la sento, non la vedo da 15 anni. Va bene, parlo io, fai il numero. Ha fatto il numero, suona, suona a vuoto. Erano già le 10 di sera. Eh, sarà che il numero è sbagliato? Sarà che io ho più di quello che potevo fare? Ok, va bene. Dai, facciamo una passeggiata. Sono usciti fuori, hanno fatto una passeggiata. Alle 11 tornano a casa e gli dice, va bene, chiama ancora. Dice, no, in Brasile alle 11 non si chiama. Dice, parlo io, chiama, tu fai solo il numero. Questo fa il numero, questo fa il numero, subito lei risponde e questo ragazzo si trova a dire, ah, ciao, sai chi sono? No, così inizia a raccontarle chi è. Dice, ah, certo che mi ricordo di te. Come stai io così? E tu come stai? E si sono messi a parlare al telefono. A un certo punto gli dice, guarda, c'è questo rabbino che vuole parlare. Dice, è un rabbino. Ok. Prende il rabbino il telefono e dice, ma tu dove abiti? Qui? È lontano? No. Ok. Ti va se veniamo a bere qualcosa da te? Ma sono le 11, ma un rabbino dall'Israele, con tanto piacere, venite, venite. E sono arrivati a casa sua. Lui si è seduto sulla poltrona, ha lasciato che i due chiacchierassero tra di loro, hanno bevuto qualcosa e poi la ragazza ha voluto il numero di telefono della ragazza. Il giorno dopo si sono telefonati, dopo tre giorni si sono di nuovo incontrati. Miracolo, miracolo, decidono di sposarsi. Dopo tre giorni. È scattata la scintilla. Ora, vanno dal rabbino e dicono, vogliamo che tu sarai il nostro rabbino, il rabbino che farà la cerimonia religiosa. Allora, il rabbino Barcagni dice, guarda, io sto tornando a New York, perché ho fatto il biglietto, andate e ritorno a New York. E da noi si usa così, che quando una ragazza o un ragazzo decidono di sposarsi, ognuno scrive una lettera e la manda al Rebbe. Adesso scrivete te e te, scrivete due lettere, io le prendo e vi prometto che domani mattina queste due lettere saranno sul tavolo del Rebbe. Hanno scritto queste due lettere, erano molto emozionati, hanno portato le lettere, lui ha portato le lettere a New York, è subito andato nell'ufficio della segreteria del Rebbe, ha detto, queste due lettere devono essere adesso davanti alla scrivania del Rebbe, perché è stata una mia promessa. Hanno portato queste due lettere, Rebbe ha dato la vera ha per il matrimonio e così, tre mesi dopo, si sono sposati. Lui è tornato in Brasile per fare questo matrimonio. Ora, vi ho raccontato una storia, ma che cos'è successo qua? Innanzitutto è successo che c'è un tzaddik che vede e che sente il bene e il male di ognuno di noi. Quando è passato questo Rav, il Rebbe gli ha dato le brachot per andare in Erez Israele, ma poi il Rebbe ha visto con il regalo che Hashem gli ha fatto, con gli occhi divini, con gli occhi infiniti, ha visto che c'è qualcosa che solo lui può fare. Quindi l'ha richiamato e gli ha detto, tu vai in Brasile? Perché gliel'ha chiesto? Perché non gliel'ha detto? Se il Rebbe vede che questo Rav, che si chiama Bar Khan, da Israele, può salvare un ragazzo ebreo da non sposarsi con ciò che la Torah non gli permette di sposarsi e di sposarsi con una ragazza come la Torah vuole, perché non gli spiega l'importanza della cosa? Perché glielo chiede? Perché vuole dare il merito alla Rav. Il Rebbe non toglie il libero arbitrio. Dato che Hashem ha creato questo mondo con una regola fondamentale, che in questo mondo c'è il libero arbitrio, il Rebbe non può togliere il libero arbitrio, perché se Rebbe dice a qualcuno, fai questa cosa, davanti a Rebbe non avevamo il libero arbitrio. Il Rebbe non diceva mai. Il Rebbe chiedeva, vuoi fare questa cosa? E quindi se il Rebbe ti dice vuoi, tu devi volere. Il Rebbe non ti diceva vuoi. Il Rebbe chiedeva, vai in Brasile? E lui ha detto, io sono un soldato del Rebbe, certo che vado in Brasile. E quindi lui è arrivato in Brasile ed era lui che poteva salvare la situazione, perché era lui quello che conosceva la famiglia e poteva con questa scusa entrare nel cuore di questo ragazzo. Ed è una storia incredibile, una storia miracolosa, che in una settimana un ragazzo che era fermo con le sue posizioni, che era innamorato produttamente di una ragazza locale, decide così di punto in bianco di cambiare la sua vita in un attimo. Chiaramente è una cosa miracolosa, però è una delle migliaia, se non decine di migliaia, non posso dare un numero. Non posso dare un numero alle storie che si possono raccontare del Rebbe. Perché il Rebbe è stata la persona, ed è come viene spiegato nello Zohar, io sono stato a pregare dal Rebbe questo mercoledì, ci devo andare ancora a questo pomeriggio, perché oggi è il giorno in cui si va dal Rebbe. E c'è scritto nello Zohar che il Tzaddik, la forza che ha quando vive nel suo corpo fisico, è una forza molto limitata. E quando l'anima si eleva dal corpo, perché sui Tzaddikim la parola che si usa, il termine giusto del Tzaddik è che l'anima si eleva dal corpo, l'anima perde le limitazioni dello spazio e del tempo che ha il corpo e l'influenza del Tzaddik è molto maggiore dell'influenza che aveva prima. Quindi questo giorno, che potrebbe sembrare un giorno triste, perché noi fisicamente non abbiamo la possibilità di vedere e di comunicare con il Rebbe, è un errore. ci sono incredibili storie che si raccontano di persone che sono andate a pregare dal Rebbe, dove riposa oggi, a Queens e hanno ottenuto la risposta, sono stati riscattati quasi immediatamente. Lo stesso giorno, dopo un minuto, dopo un'ora, dopo un giorno, ci sono delle storie incredibili che ho sentito, il tempo è quasi arrivato al termine, e quindi non voglio più di tanto dilungarmi su questo, ma quello che dobbiamo noi fare oggi è quello di rinforzare la nostra emunà, la nostra fede. Nel Tania si spiega che la parola emunà viene dalla parola uman. Uman significa una persona, un artista, un artigiano. Che cos'è un artigiano? Un artigiano è uno che fa molto, molto bene il suo lavoro, perché lo fa tutti i giorni. Quando io devo andare a casa mia, dal negozio, non devo assolutamente pensare come si va a casa, perché lo faccio tante volte al giorno, e che il mio corpo va avanti da solo. Quindi posso parlare al telefono, posso scrivere un messaggio, posso ascoltare la musica, posso fare i progetti, e mi ritrovo a casa. Perché sono cose che so fare talmente bene, e sono talmente allenato a tornare a casa, che non devo neanche sforzarmi a fare le cose. Quindi questo è un artigiano. Un artigiano è uno che ripara le scarpe, e lo fa dieci volte al giorno, cento volte al giorno, non ci pensa più. Guarda la televisione, parla al telefono, intanto fa le cose bellissime. Emunà significa allenamento. Emunà non è una cosa che uno dice, beh, ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Emunà è una cosa che tu ti devi allenare tutti i giorni, a pensare, a riflettere, a ciò che ti lega con Hashem, a ciò che ti lega con il tzaddik. Ora, il Tanya ci spiega che il più grande regalo che Hashem ha fatto al mondo è quello di mettere dei tzaddikim in ogni generazione. Perché il tzaddik è la persona che ti riflette la presenza di Hashem in questo mondo. Quando io vado a pregare dal tzaddik, la Rizal è stato uno tra i più grandi kabbalisti di tutte le generazioni. Non voglio dare titoli e non voglio dare i gradi a nessuno perché i tzaddikim, come abbiamo detto, solo Hashem li sa valorizzare. Però è stato uno dei più grandi kabbalisti di tutte le generazioni. Dice che i grandi tzaddikim sono così che Doshim che anche centinaia di anni dopo la loro dipartita da questo mondo, come si sa, come ci sono state le prove, il loro corpo rimane intatto. Ci sono state storie di tzaddikim che sono stati portati in Erez Israel. Anche in Italia è successo. Nel Settecento è venuto a mancare Ravchida. L'hanno portato nel 1960 in Israele. Il corpo era intatto. E così tanti tzaddikim. I nazisti nella città di Lijansk. Questa è una storia che mi ha raccontato una signora di 80 anni che era una ragazzina nel 1945 a Lijansk, non di religione ebraica. Mi ha visto e ha detto ti racconto una storia. Quando i nazisti sono arrivati a Lijansk, in una cittadina in Polonia, c'è un grandissimo tzaddik che riposa lì. Dice sono venuti, hanno portato via tutte le... Dopo che hanno portato via gli ebrei, hanno portato via tutte le lapidi per fare le strade per i carri armati. Hanno usato le lapidi del cimitero ebraico per fare le strade per i carri armati. Quando hanno aperto la lapide, che era molto grande, del tzaddik, Rabbi Elimelech di Lijansk, hanno visto qualcosa di speciale. Hanno tirato su... Era avvolto in un talit. Hanno tirato sul talit e hanno visto il tzaddik che ha aperto gli occhi. Sono storie che forse non ci fanno dormire la notte, ma sono storie che la Gemara ne è piena, quindi non mi impressiona più di tanto. Dopo 160 anni che era mancato. Quindi, dice la risa al tzaddikim, alla fine, come dice lo Zohar, come dice la Gemara, che tzaddikim, dopo la loro dipartita, la loro rivelazione, sono più vivi di prima. Quando noi andiamo a pregare sulla tomba di un tzaddik, noi non lo vediamo, noi non lo sentiamo, ma la sua anima si ricongiunge con il corpo, il livello più basso di nefesh, dell'anima, e quindi ci vede, ci ascolta, e prende le nostre richieste e le porta davanti al trono di Hashem. È per quello che noi si va a pregare sulle tombi di tzaddikim, non che noi crediamo che il tzaddik ci può salvare, non che noi crediamo che il tzaddik è che ci risponde. Il tzaddik è l'amico intimo di Hashem e quindi Hashem, per lui, fa qualsiasi cosa. Se il tzaddik chiede qualcosa, Hashem lo... Sfuggite la parola in italiano, lo esaudisce. Lo esaudisce, era la parola che dovevo dire. Grazie mille. Prego. Questo è il motivo per il quale noi andiamo dei tzaddikim, questo è il motivo per il quale noi siamo così furbi ad andare dagli amici intimi di Hashem a dire ho un problema, devo risolvere questa cosa, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, e tutto quello che abbiamo bisogno sono cose abbastanza limitate in confronto a quello che abbiamo veramente bisogno, rinforzarci la nostra emunah e si va a pregare dal tzaddik anche per rinforzare la nostra emunah in Hashem, per abituarci, per allenarci, per rinforzare sempre di più il nostro legame con Hashem perché il significato della nostra vita, uno dei più grandi psicologi della storia diceva che l'uomo cerca un significato e qual è il significato che noi cerchiamo? è quello di collegare questo mondo con Hashem. Questo è quello che Rebbe faceva, quando dava i dollari a migliaia di persone ogni settimana, spiegava perché, diceva che il mio suocero, il Rebbe precedente, mi ha detto che quando due persone si incontrano ne deve venire qualcosa di positivo per una terza persona. Come abbiamo visto la storia di vai in Brasile, sei venuto da me, ok, io ti do le berahod, ma qualcosa di positivo per una terza persona ne deve venire fuori. e dato che tu sei la persona giusta al momento giusto, io ti chiedo se hai voglia di fare questa cosa. Quindi lui è andato in Brasile e ha salvato una situazione molto molto complicata con una facilità estrema. C'era una berahà dietro, c'erano le spalle del Rebbe, chiaramente. E quindi ogni persona che riceveva una berahà, un dollaro dal Rebbe, stiamo parlando di 10.000 situazioni ogni settimana. il conto che hanno fatto di quanti dollari ha dato il Rebbe alla gente sono milioni e milioni di dollari che Rebbe riceveva e non teneva per sé. Si racconta che quando è venuto, io ero qua nel 1994, quella sera, era Muzzei Shabbat, come quest'anno. Era a mezzanotte che è arrivata questa brutta notizia. E il giorno dopo sono andati sul conto in banca per pagare le spese della sepoltura, hanno trovato l'importo al dollaro preciso che serviva per pagare le spese della sepoltura. Non un dollaro di più. Da Rebbe passavano tantissimi soldi, per sé niente. Io non sono qui per me. Come Moshe Rabbein ha detto ieri nella Parashah, quando Korach è venuto a contestare Moshe, dice da non ho preso niente da loro, ho preso qualcosa da loro. E l'Aftara lo ripropone, Shemuel, prima di lasciare questo mondo, ha chiamato a raduno il popolo, ha detto vi devo qualcosa. In altre parole, io non sono venuto qui per approfittare del mondo, per approfittare di voi. Io sono venuto qui e mi sono sacrificato per voi. E così Rebbe si è sacrificato per noi e abbiamo visto che tutto quello che gli interessava, come è giusto per ogni essere umano, cercare un significato nella vita. Il significato è quello di portare bene, portare positività e questo si fa creando il legame tra Hashem e questo mondo. Questo è il pensiero che mi è venuto oggi in mente. 19 a Milano, le 20 in Israele, le 1 del pomeriggio a New York. Quindi vi saluto, vi voglio fare questo piccolo regalo. Voi avete tutti, il mio cellulare, forse non ce l'avete tutti, avete tutti il cellulare di Ravmiki. Se gli mandate il nome, il nome della mamma a Ravmiki, io fra un paio di ore leggo i vostri nomi da Rebbe, perché Rebbe possa ricordare i vostri nomi per Berahá, per darvi una lunga vita, per darvi la salute che vi serve e se avete delle richieste particolari posso leggere. C'è una lunghissima fila da fare, però sono molto organizzati, sono abbastanza veloce, quindi approfittiamo di questo giorno qua. Finisco con una piccolissima cosa che valeva la pena sentire. C'era un signore che non riusciva ad avere figli. C'era in corso una lezione di raviose. Scusate, un attimo che mi metto in muto. Ascoltate solo questa cosa, vale la pena di ascoltare. c'era questo signore qua che andava da tutti i tzadikim a chiedere alla Berahá per avere figli e non aveva figli. Sono passati dieci anni, vent'anni. A un certo punto è andato da un tzadik e questo tzadik gli ha detto se mi porti adesso una cifra di 300 rubli, era il 700, adesso io ti prometto che l'anno prossimo avrai un figlio. E lui ha detto ma come faccio, devo vendere il negozio, devo vendere come faccio, come faccio. Ha detto o così o niente. È arrivato il giorno dopo con la somma ha detto non posso fare niente per te. Ma come? Mi hai detto ieri, diceva ieri era ieri, oggi non posso fare niente per te. Lui era disperato, ha venduto quello che aveva per accogliere questi soldi e il tzadik gli dice niente. Allora è andato dall'autore del Tanya ha detto perché questo tzadik mi ha fatto soffrire così tanto? Ha detto tu non hai capito. ieri era il giorno in cui un grandissimo haham era il giorno della sua dipartita e in cielo il giorno della dipartita di un tzadik è il giorno in cui lui comanda e dato che lui ha scritto in uno dei suoi libri che chi offende un haham può riscattare la sua anima con questa cifra e ieri lui comandava in cielo tu se tu ieri avresti pagato questa cifra ti avrebbe il tzadik riscattato e avresti avuto figli perché tu non hai figli perché molti anni fa da giovane hai insultato in pubblico un talmit haham e in cielo hanno visto questa cosa molto grave e ti hanno bloccato la possibilità di avere figli questa baraka non ce l'hai più però dato che c'è un haham che dice che con quella cifra una persona può riscattarsi lo dovevi fare ieri perché ieri era lui che comandava nei cieli questo grande haham perché era il giorno della sua dipartita perché ogni giorno scusate ogni anno il giorno della dipartita di un haham o di un tzadik è il giorno in cui lui è il re quindi oggi che è il 3 di Tammuz il rebbe che è stata la nostra guida è stato il nostro maestro è re anche nei cieli quindi oggi è il giorno in cui possiamo approfittare per chiedere al re quello che vogliamo chiedere e dato che oggi lui comanda se così si può dire perché le sue richieste vengono esaudite da Shem perché oggi lui la persona che comanda approfittate di questa cosa e mandate o avete il mio Whatsapp o tramite Ravmiki me le manderà su a Grazie a tutti.